A Modica l'amministrazione ha installato nuovi impianti di videosorveglianza come deterrente contro i furti. L'Aggiunta Abate ha deciso di cominciare dalla frazione di Frigendini installando 22 telecamere. Dopo sarà la volta di Zappulla e poi ancora di Marina di Modica. Secondo quanto riportato dagli amministratori, l'Aggiunta Comunale ha deciso di non aspettare il Ministero come prospettato inizialmente, ma si è deciso di andare avanti da soli perché non c'era da aspettare perché gli abitanti di Frigendini, come quelli di Marina e di Zappulla, non possono continuare a vivere con la paura di essere derubati in continuazione. A Frigendini l'impianto è già attivo, a maniera di Modica dovrebbe esserlo entro l'estate e quindi seguirà a ruota quello di Zappulla. L'obiettivo, secondo quanto annunciato dagli amministratori, è quello di coprire quanto più territorio possibile, infatti altre zone di Modica sono già in lista dopo quelle già citate per essere datate di impianto di videosorveglianza. Per quanto importante sia la scelta di controllare il territorio, c'è da chiedersi perché, ancora una volta, come fatto anche per la manutenzione delle strade, si è deciso di partire da una frazione per proseguire con una contrata, anziché cominciare dalle zone a più alta densità di popolazione.